Allora che dire, l'Inter è uscito dalla Champions, agli ottavi con l'Atletico Madrid è un momento per me fantastico perché l'Inter, oggi il fantasma, lo spettro dell'Inter che vince la Champions, che diventa campione d'Europa, svanisce praticamente si dissolve una bolla di sapone, è uno spettro veramente, è un ecatombe, un spettro maligno proprio sarebbe, è un ecatombe, una tragedia che per fortuna viene sventata, mi è sventata dall'Atletico Madrid ai calci di rigore, sono molto contento e euforico, ma detto ciò secondo me non me la sento di fare il casino, di sfottere troppo, per quanto abbia guffato molto, non me la sento di sfottere troppo perché il Milan non è che sta andando bene, o meglio sto facendo un campionato accettabile, comunque secondo, è ancora in Europa League, però insomma il campionato non lo vince, l'Europa League a meno di miracoli non la vince perché sono squadre più forti, quindi vince 0 titoli, l'Inter comunque vince due titoli, non me la sento di sfottere troppo in questo momento, l'anno scorso era un caso a parte, la finale di Champions è stato qualcosa di inaspettato dove l'Inter attraverso un pattern, un path abbastanza, abbastanza, un sentiero abbastanza, abbastanza, come si dice, soft, abbastanza agevole, compresa la sfida con il Milan che nei derby non si fa valere affatto, è stato un percorso da Europa League se non da Conference, non da Conference no, però da Europa League si, cioè il Porto è una buona squadra, l'abbiamo visto con l'Arsenal che ha tenuto bottasi nei rigori, però poi il Benfica che si è indebolito, c'è Enzo Fernandez che ci aveva tipo infortunato, non mi ricordo che ci avesse l'infortunato, come cazzo si chiama, mi sembra la fastidia, non mi ricordo comunque qualcuno l'infortunato ce l'aveva, il Benfica l'anno scorso, e quindi il percorso l'anno scorso era facile, quindi l'Inter l'anno scorso essendo in finale, cazzo mi chiama quest'ora, l'Inter essendo in finale ero a disagio, quindi il fatto che l'Inter, poi l'Inter l'anno scorso era una squadra buona, non una squadra, c'è una squadra buona, ma nulla a che vedere con quest'anno, cioè, quest'anno l'Inter, di sfottere non è che ci stia molto quest'anno, però, detto ciò, sono felicissimo e ho guffato, anche se secondo me, cioè, per i miei amici interioristi, per i tifosi interioristi seri, quelli sportivi obiettivi, per loro non ci sta di sfottere, di fare cori, di esaltazione, cioè, non ha maledetto dell'Atletico Madrid, io ce l'ho, però il video non lo sto facendo con la maledetta dell'Atletico Madrid, come l'ho fatto l'anno scorso con la maledetta del Manchester City, perché, boh, non lo so, non ha molto senso, e poi altra cosa, penso che, cosa devo dire, ho dimenticato, che, che invece per i youtuber, per i tifosi della tastiera che rompono le palle, anche per alcuni youtuber che, che veramente sono insopportabili dell'Inter, cioè, che mettono solo commenti faziosi, per quelli lo sfottò selvaggio ci sta, secondo me, però, boh, per gli interessi, quegli obiettivi seri, pacati, non ci sta di sfottere oggi, per quanto possa essere felice ed euforico per l'eliminazione dell'Inter alla Champions League, detto ciò, non lo so, adesso il Milan deve pensare a sé, a fare bene in Europa il meglio possibile ed arrivare al secondo in campionato, speriamo bene.